L'arbitro, altri magari si sarebbero disuniti, ma loro no, hanno dimostrato di non mollare mai, hanno avuto grande lucidità e alla fine il risultato è positivo. Che rimonta è Luca, cosa ne pensi? Questa è una vittoria che vale doppio, la capacità di recuperare lo svantaggio, ribaltare la partita, darà una grande iniezione di fiducia alla squadra anche per il proseguo della stagione. La nostra telecronaca termina qui, al commento tecnico c'era Luca Marcheggiani, che ringrazio. Grazie Fabio, alla prossima! Grazie a tutti! Grazie! Grazie! Grazie!